Per prima cosa ho fatto una ricerca di personaggi, girando per la Tanzania e anche per l'Uganda ho fotografato decine e decine di persone, questo potrebbe essere una gamennone, anche questo, il vecchio gamennone che torna stanco dalla guerra di Troia. Un'altra variante per un possibile gamennone, più favoloso e mitico come vedete, questo è un Masai. Questo potrebbe essere Pilade, l'amico fedele, integro, leale di Oreste che gli è sempre al fianco e che pure in tutta la tragedia non pronuncia che poche parole, le seguenti. E come finiranno le parole del tuo Dio, le promesse sacre e la fede dei giuramenti, è meglio avere nemici gli uomini che gli dèi. Dietro questo sinistro velo nero si potrebbe nascondere la faccia di Clitennestra. Questa potrebbe essere, non dico Cassandra, era giovane e bella, ma potrebbe essere un gesto magico di Cassandra. Elettra.